Dopo una grande delusione, quando si gioisce, si gioisce ancora con maggior forza, con maggior soddisfazione. Un anno fa quello che è successo a Bologna, adesso finalmente il grande ritorno in Serie A. Sì, meno male, sono stati bravissimi i giocatori. Ma il Presidente adesso ha ancora voglia di affrontare nuove sfide, sì? Pensiamoci fra un paio di giorni. È stata dura, a livello anche di stress, perché insomma tu le vivi in una certa maniera le partite. Ci direi che è stata particolarmente dura in tutto. Comunque stai realizzando quello che hai fatto anche tu e che ha fatto la tua squadra. Non ancora. Non ancora tanto. Vediamo un po'. Quindi insomma magari, ecco, strappa una promessa di un'intervista più tranquilla, magari in sede nei prossimi giorni. Sì, vabbè. Sì, vabbè.